Mattia Providenza è un allievo del maestro Carmelo Lucicchio dove da un po' di tempo a questa parte resta la sua collaborazione eredita appunto la passione dell'arte equestre dal suo maestro Carmelo è un cavaliere in evidente crescita anche se gestisce un centro appunto per l'addestramento di questi nobili animali monta un animale a dir poco eccezionale monta un prisone di 5 anni di nome Gasper di proprietà di un mio caro amico Salvatore Orlando e di Antonio Bistori signori un applauso a Mattia e a Gasper che noi in studeria, dico noi perché anche io fregendo la studeria del maestro Carmelo Lucicero chiamiamo affettosamente Ciccio perché ci ricorda un grande cavallo che è stato ospite nelle studerie di Carmelo Lucicero appunto di Salvatore Orlando un cavallo che ormai non c'è più e gradirei un vostro applauso in memoria del nostro amico Ciccio capisco che è un po' esagerato ma perché ama i cavalli è il minimo io dovrei dilungarmi a parlare delle qualità di questo cavaliere e dell'addestramento di questo cavallo ma i fatti come ti suole dire si commettano da solo questo binomio farà parlare di sé e questo cavallo e chi parla qualche parolina sui cavalli da puntire ha un roseo e florido a venire signori un applauso a questo binomio un po' di Roma Ticchense per Magia e Gasper bellissimo questo passaggio il jazz E ancora passate. E ancora il vostro applauso. Un galoppo a mano destra. Elegante, con resto, riunito. Molto bene. Sperla questa performance e questo passo spagnolo sulla longitudinale del campo. Molto bene. Grazie Machia. Grazie e complimenti ancora.